Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Questo bellissimo affresco di Ciccone, di Antonio Ciccone, che ha anche una storia che vi racconteremo nei nostri piccoli episodi che raccontano la storia di Padre Pio. Perché in questa sala, la sala San Francesco, perché il 6 gennaio del 1903 fu una giornata importantissima per il piccolo Francesco Forgione, per questo ragazzo adolescente che sceglie un'altra vita, decide di entrare in convento e quella è la data che segna un po' la storia, la nuova storia. Lui lascia casa sua, lascia la sua famiglia e abbraccia un'altra famiglia, quella dei frati minori Cappuccini, della provincia di Sant'Angelo, all'epoca si chiamava Sant'Angelo Foggia, entra in convento, viene accompagnato dal suo maestro e da Don Nicola Caruso, dal maestro Caccavo e Don Nicola Caruso, viene accompagnato a Morcone, nel convento dei frati minori Cappuccini di Morcone, per cominciare il noviziato. È una data significativa perché segna il distacco, seppur doloroso con la sua famiglia. Infatti lui scriverà che in quel momento lui ha svelato il nobile e fragile cuore di uomo, dolore che sentiva così vivo che era sul punto di svenire, uno strazio che andava sempre più crescendo. Ed infatti nella notte tra il 5 e il 6 gennaio del 1903 fu una notte travagliata dove vennero incontro Gesù e la Madonna che lo sostennero e soprattutto lo incitarono e gli garantirono che sarebbero stati accanto a lui per tutta la sua vita e così fu. Questo dolore si manifestò, possiamo immaginare, proprio quel giorno, prima della partenza. Era l'Epifania, una giornata di festa per la Chiesa e dopo aver partecipato alla Santa Messa insieme alla mamma venne questo momento del distacco, doveva andare via da Pietrelcina, cominciò a salutare tutti e sull'uscio di casa si inginocchiò e chiese la benedizione a mamma Peppa. Mamma Peppa disse al figlio Francesco non pensare al dolore di tua madre, va. Il papà non c'era, il papà era emigrato in America. Anni più tardi padre Pio ha raccontato questo episodio, ha raccontato questo distacco. Ci lui disse io non versai neanche una lacrima ma sapevo solo io quello che avevo nel cuore, il distacco di mia madre e la mamma disse Franci se San Francesco ti chiama tu devi andare anche se mi si sta scoppiando il cuore. Francesco andò via, si portò dietro il rosario della mamma e un'icona, un'immagine della Madonna della Libera di Pietrelcina. Grazie per la visione!